Tu sei pescaresi, naturalmente lo sappiamo noi pescaresi, ma in realtà ti dà fastidio un po' che a Pescara non sei mai transitato di fatto? Questo è strano, quantomeno. No, fastidio no, anche perché il periodo in cui ero calciatore, il Pescara la maggior parte delle volte o militava in Serie A o giocava per vincere la Serie B. Sì, onestamente io ero un discreto giocatore, ma di Serie B il Pescara era una formazione troppo alta per le mie qualità calcistiche. Abbiamo detto aspetto tattico e poi aspetto gestionale del gruppo. Da chi hai appreso qualcosa in questi due ambiti? Tu quando eri calciatore e c'era qualche allenatore che ti guidava? Io ho avuto Ivo Iaconi per tre anni alla Fermana, abbiamo vinto un campionato di C1 insieme e sicuramente è stato un punto di riferimento sia sotto il punto di vista tecnico-tattico che sotto il punto di vista della gestione dello spogliatoio. Il mister è stato un maestro a mio avviso su tutti e due i fronti.